però la mia opinione è questa che nei video comunque dei Kickstarter il gioco da tavolo non lo vedi mai la cosa interessante è questa giustamente prima parlavi di mercato quello della produzione video sottovalutato nel settore del gioco da tavolo in realtà se c'è un fenomeno che ha riportato la produzione video ai massimi livelli per il nostro settore è senz'altro il mondo di Kickstarter perché è innegabile che il trailerino nel leader delle campagne Kickstarter sposti a livello emozionale tantissime vendite e a volte si potrebbe quasi ovviamente non in maniera così esatta ma quasi certificare l'esito di una campagna già dalla qualità di quel video per tanti fattori correlati ovviamente poi serve una campagna strutturata bene è chiaro però si capisce già dal tipo di impostazione di narrazione che farà la casa editrice quanto poi quel Kickstarter potrà avere o meno successo da quel punto di vista come li trovi mediamente quel tipo di produzione video? cioè le vedi un po' più al livello che richiederebbe questo comparto o anche lì vedi tanto dilettantismo e poca costruzione? anche prima in realtà non parlavo di dilettantismo parlavo semplicemente di sottovalutare un mezzo che secondo me andrebbe sfruttato di più su Kickstarter sono d'accordo con te la qualità è assolutamente elevata secondo me quello che manca in Kickstarter non è la qualità a parte qualcuno che voglio dire adesso facendo una piccola digressione probabilmente tu lo sai alcuni magari che ci seguono o no esiste un sito che si chiama Fever che vende prestazioni professionali a dei costi ridicoli cioè vi parlo di gente che fa siti web a 15 euro quindi non è che ecco lì ci sono tanti che si rivolgono lì c'è anche la versione localizzata in italiano di Fever non so se l'hai vista si chiama miocugino.it ecco funziona da dio esatto quindi voglio dire su Kickstarter c'è probabilmente anche qualcuno che si rivolge a quel tipo di professionista il resto le grandi case si rivolgono a professionisti io ho visto video meravigliosi bellissimi poi tra l'altro spesso e volentieri si utilizzano le grafiche originali ci sono illustratori ormai che lavorano per i giochi da tavolo che fanno delle vere opere d'arte per cui non si può discutere su questo però la mia opinione è questa che nei video comunque dei Kickstarter il gioco da tavolo non lo vedi mai anche il gioco rappresentato nella parte di Daskalica che c'è nei video Kickstarter dove ti spiegano è sempre digitale è sempre fatto finto non è non è il pezzo dal vivo io capisco cioè in Chamber of Wonders io ho avuto un prototipo poi Ludus Magnus ha fatto le cose in un certo modo il prototipo è bellissimo niente da dire però e quindi capisco che magari ci siano aziende che dice io prima del Kickstarter un prototipo di livello non ce l'ho devo arrangiarmi quindi questa situazione non è criticabile ma laddove ci possa essere ecco secondo me il fascino di una ripresa dal vivo è diverso e poi soprattutto se si parla di trailer quindi di una comunicazione emotiva c'è la spendibilità e qui rientriamo nel discorso marketing che fai tu cioè nel momento in cui tu fai un trailer quindi una parte emotiva e non c'è una parte di Daskalica che poi resta e muore con Kickstarter se vuoi perché sta lì e basta quella parte emotiva col gioco tu te la puoi spendere come editore quando vuoi perché hai spesa su Kickstarter ma poi nulla ti vieta di continuare a tirarla fuori cioè la sua vita è tanta quanta quella del gioco da tavolo anche se viene ristampato perché se quello diventa un trailer diventa un trailer emotivo che dura un minuto un minuto e mezzo che lavora sul gioco così com'è e sull'emozione che il gioco ti dà tu quel prodotto una volta che hai investito a realizzarlo con un professionista te lo puoi giocare tutta la vita reale del gioco grazie a tutti